Ora una straordinaria particolarità dal Piemonte, non parliamo di Liguria ma proprio di Piemonte, raccolta di olive a Cantalupa nel Pinerolese in provincia di Torino. Anche in provincia di Torino è cominciata la raccolta di olive e siamo andati nel Pinerolese a Cantalupa. Giuseppe Arbrile dell'area tecnica di Coldiretti Torino, tecnico olivicolo, presenta la realtà della coltivazione dell'olivo in provincia di Torino sino alla produzione di un olio extravergine di alta qualità. Nel torinese la coltivazione di olivo era già presente molti anni fa. Negli ultimi 15-20 anni gli oliveti sono stati reimpiantati in alcune aree del Pinerolese e Canavese. In Piemonte si coltiva l'olivo anche nel Monferrato e nel Saluzzese. La provincia di Torino, ormai abbiamo visto dappertutto sul territorio che sono nati questi impianti. Qui ci troviamo con piante che hanno intorno ai 15 anni, abbiamo centinaia di piante che sono il classico impianto a livello familiare che possiamo trovare sul territorio. Qui ci troviamo nello specifico nel Pinerolese, precisamente a Cantarupa e questi impianti che possiamo vedere generalmente sono costituiti da diverse varietà. Quindi abbiamo Lecino, Frantoio, Pendolino, Maurino, Moraiolo, Nostrale e Brisighella. E sono stati messi a dimora con diverse varietà per ovviare alle varie problematiche di impollinazione, ritorni di freddo, eccetera, per avere una garanzia sulla produzione. L'olivo era già presente molti anni fa. Poi con tutta una serie di operazioni, progetti, interventi, si è cercato di rimetterlo a cultura e farlo ritornare sul territorio. Gli andamenti climatici hanno aiutato parecchio e i risultati di raccolta e produzione, quindi trasformazione dell'olivo in olio, hanno incentivato queste operazioni. Nella gestione dell'oliveto è finalizzato la produzione di olive in una certa quantità che vengono poi trasformate in olio extravergine di oliva. Il problema di questi impianti è appunto la trasformazione, quindi la frangitura dell'oliva per ottenere l'olio extravergine. Parliamo di olio extravergine perché è l'unico tipo di olio che si può ottenere dalla spremitura delle olive, quindi operazione meccanica a freddo. Tutti gli altri tipi di olio sono ottenuti poi da lavorazioni, diciamo, dello scarto che viene ottenuto con l'estravergine, viene ottenuto poi tutta una serie di oli con i solventi, quindi dall'olio d'oliva, all'olio di sansaro, all'olio lampante, sono tutti oli secondari. Il primario, l'extravergine, è quello che si ottiene semplicemente dalla prima operazione. La difficoltà nell'ottenere l'olio sono dovute alla possibilità di trovare dei frantoi sul territorio che possano fare le operazioni appunto di trasformazione. Perché una volta raccolta l'oliva bisogna cercare di fare la frangitura nell'arco dei due giorni successivi, proprio per evitare di rovinare, deteriorare il prodotto. L'olio che si ottiene dalla frangitura di queste olive che appunto arrivano da questi impianti ha delle caratteristiche particolari. Noi nell'arco, se calcoliamo che gli impianti hanno in media dai 15 ai 20 anni, qualcuno anche di più, abbiamo avuto modo di fare dei panel test con panelisti che arrivavano dalla Toscana. E ci è stato detto proprio chiaramente che dovevamo andare avanti nell'attività perché gli oli che si ottengono sono decisamente di alta qualità. L'olio extravergine per adesso si trova poco sul mercato perché è ancora a livello di consumo familiare, poca commercializzazione. Però ci sono già delle realtà che vendono da alcuni anni e i prezzi sono abbastanza elevati proprio a denotare le caratteristiche organolettiche particolari. Quindi parliamo di prezzi intorno ai 30 euro al litro e con caratteristiche che appunto sono decisamente elevate. Sì, è come diciamo equilibrio nella composizione dell'olio. Il discorso di questi impianti, noi come col diretti Torino ci siamo dovuti appunto preparare e renderci diciamo disponibili a seguire questi impianti. Ormai abbiamo acquisito una certa esperienza e diamo indicazioni dall'inizio di coltivazione, quindi dalla messa di mora alla gestione con la putatura eccetera, a tutte le tecniche di produzione per arrivare a ottenere l'oliva. E poi successivamente per la frangitura bisogna appoggiarsi a dei frantoi pochissimi che fanno il servizio di frangitura sul territorio che spazia dal Pinerolese al Canavese principalmente. Ci sono anche delle realtà sulla collina di Torino, sul Chierese, però il territorio diciamo abbastanza limitato come capacità di lavorazione. Sì, per chi avesse necessità di informazioni ulteriori o comunque di lucidazione sugli impianti può rivolgersi al servizio di assistenza tecnica che è in essere a Torino e in via Piossettimo presso col diretti Torino. C'è un'area tecnica dedicata appunto all'assistenza tecnica sulle coltivazioni, compreso l'olivo, perché ormai è diventata una cultura significativa sul territorio.